Siamo qui presso la sede di Leoburnet Italia con Giorgio Brenna, CEO e Presidente. Innanzitutto sgombriamo il campo da alcuni rumors che ti volevano in qualche modo, non in uscita ma in una fase precaria qui in Leoburnet, comeppure si è detto che Leoburnet ha avviato una politica di dismissione di personale eccetera. Ecco, inquadriamo un po' le cose nel loro giusto ambito. Partiamo dalla tua posizione, tu sei anche costretto per il lavoro, per il tuo incarico internazionale a essere molto in giro per l'Europa, però non hai assolutamente perso, mi pare, di capire il tuo impegno e il tuo ruolo qui in Italia. Assolutamente no, chiacchierando prima dicevamo che è la mia prima settimana intera che faccio in Italia dall'inizio dell'anno, però questo non vuol dire che non lavoro più in Leoburnet e non lavoro più in Italia, anzi Milano è l'headquarter europeo di Leoburnet, è il mio lavoro, rimango in Leoburnet, gli uffici della Leoburnet rimangono tutti, ne abbiamo aperti degli altri, in Italia questa è la sede di Fatebene Fratelli, il teatro famigerato, famoso non è chiuso, anzi è pieno di persone, anzi ad aprile faremo di nuovo il fuori salone con un evento che vi anticipo che ci sarà un evento, non vi dico che cosa ma sarà molto interessante ed è il lancio di una nuova iniziativa. Abbiamo dei nuovi uffici molto belli, a Lausanna è finita finalmente la costruzione dell'agenzia, non solo fisicamente come ufficio perché è molto bello ma ci sono 40 persone che lavorano lì e Lausanna è l'headquarter di coordinamento per Philip Morris International, abbiamo preso un nuovo ufficio a Berlino, ne avevamo già uno ma è diventato troppo piccolo per cui l'abbiamo quasi triplicato, ero là due settimane fa ed è un posto molto bello, la città è piena di talenti, è piena di talenti creativi e quindi ci sono delle cose molto interessanti. Ecco, per quanto riguarda invece le risorse umane appunto si è sparsa questa voce di addirittura 70 licenziamenti, quindi un clima assolutamente negativo da questo punto di vista, spiegaci anche su questo fronte che cosa è successo. Nel mese di gennaio l'Evonet Italia ha assunto 70 persone, non ne ha licenziate 70, certo c'è stato un po' di ristrutturazione da fare, quindi circa una ventina di persone hanno dovuto lasciare l'azienzia, è un numero diverso da 70, quindi ne abbiamo assunti 70 e una ventina hanno dovuto lasciare, questo deriva anche dall'applicazione delle nuove leggi sul sul lavoro che hanno ridotto di gran lungo la flessibilità nonostante le dichiarazioni politiche, le dichiarazioni politiche dicono che questa legge aumenta la flessibilità e riduce il precariato, in realtà per le aziende questo non è vero, i costi di gestione del lavoro sono aumentati. Questo è stato fatto in una situazione di mercato che non è esattamente la più florida degli ultimi 50 anni, anzi è forse una delle più complicate degli ultimi 50 anni. Questo ha voluto dire che dovevamo andare a fare un ritocco dal punto di vista organizzativo che è stato fatto, ma dirò di più, ci saranno dei ritocchi da fare anche quest'anno, che non vuol dire assolutamente che bisogna licenziare la gente, bisogna cambiare i modelli organizzativi e poi bisogna vedere quali sono i profili che si adattano ai nuovi modelli. Non vuole essere una minaccia, vuole essere una promessa di essere ancora più efficienti e competitivi e il Leoburnet lo è già adesso, quindi dobbiamo migliorare. Ecco, questa riorganizzazione vedrà la luce quando? Vedrà la luce prima dell'estate. Non ci puoi anticipare niente al momento? No, perché altrimenti facciamo nascere degli altri rumors ancora peggiori. Il modello è molto attrattivo, è assolutamente innovativo ed è estremamente competitivo per i mercati europei, perché questo sarà un modello che non applicherò per l'Italia, lo applicherò su tutte le agenzie in Europa. In Europa abbiamo circa 1500 dipendenti, quindi sarà un lavoro molto interessante. Bene, quindi diciamo che per quanto riguarda il discorso delle risorse umane e questa ristrutturazione che c'è stato ha riguardato soprattutto l'area dei contratti a progetto convertiti in assunzione quelli che non è stato possibile fare, sono stati chiusi, questo mi sembra che sia il concetto, però anche alcune seniority sono state tagliate se vogliamo. Sì, in qualche caso anche. Il discorso che deve essere estremamente chiaro è che non c'è una volontà di vessazione verso nessuno e non c'è neanche una, Dio me ne guardi, una volontà di andare a tagliare le persone più piccole, le persone più junior. Si va a vedere quali sono le persone, i profili che sono adatti ad affrontare un modello di business e un modello di clientela che sta cambiando. Ecco, questa è forse la cosa più interessante, il mercato è quello che ora parleremo anche di quelle che sono le tue previsioni. Il modello di business delle agenzie così come è arrivato fino ad oggi è quello che si rifaceva un mercato che non c'è più, quindi adesso l'evoluzione delle agenzie, delle agenzie di comunicazione, delle imprese di comunicazione, verso quale direzione deve andare? Deve andare con dei modelli organizzativi che sono sempre nuovi. Io mi prendo la briga di far evolvere il modello ogni anno per cercare di essere sempre più competitivi. Questa è un'agenzia grande e un'agenzia grande ha bisogno di stimoli organizzativi, non solo di stimoli creativi e un'agenzia grande deve andare a... Abbiamo di 350 addetti. Sì, si va verso i 400, per cui ha bisogno di essere anticipatrice sui tempi per andare ad anticipare quali che sono le esigenze dei clienti o almeno provarci, sicuramente non essendo ancorata un modello di gerarchia piramidale che è quello che si è sempre usato e che si tende ad usare e che si tende ad usare anche nelle situazioni con tanti giovani. I giovani si dice in alcuni casi hanno bisogno di disciplina, di non essere inquadrati eccetera eccetera. Io credo che un modello diverso sia più produttivo, però ha bisogno di impegno e di lavoro e deve essere capito e spiegato e questo è uno dei lavori che sto facendo.